State seguendo il Mondiale Anderventi in Argentina? Ecco 5 talenti che non dovete assolutamente perdervi. Dopo il rinvio nel 2021 a causa del Covid in Argentina in questi giorni è iniziato il Mondiale Anderventi. L'Italia è inserita nel gruppo D e a quota 3 punti dopo due partite. Nel match d'esordio contro i Verde Oro, Cesare Casadei ha trascinato gli Azzurrini. L'ex Inter è uno dei migliori calciatori della competizione. Eccone altri 5. Il primo è l'argentino Valentim Barco, classe 2003. Nato mezzala e diventato poi terzino sinistro, di proprietà del Boca Juniors e nel mirino di Juventus e Manchester City. Nella nazionale inglese c'è un attaccante Dane Scarlett davvero molto promettente, classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Tottenham. Mourinho stravedeva per lui quest'anno in League One con il Portsmouth 6 gol e un assist. Il Brasile è guidato da Marcos Leonardo, classe 2003, calciatore di un livello tecnico superiore alla media. Con il Santos ha firmato il suo primo contratto professionistico a 16 anni. La sua clausola recissoria è di 100 milioni. La porta degli Stati Uniti è difesa da un ragazzo che a fine stagione arriverà certamente in Europa. Ha già firmato il contratto, l'ha fatto con il Chelsea. I Blues hanno pagato 10 milioni al Chicago Fire per Gabriel Slonina, per molti considerato il portiere del futuro. Ultimo ma non meno importante, Alain Virginius, francese esterno offensivo del Lille. Il classe 2003 in stagione vantaggia 15 presenze in Ligue 1. Farà di tutto per mettersi in mostra anche in Argentina.